La crisi climatica che stiamo affrontando e che al momento si manifesta con un aumento delle temperature medie del pianeta e ripetersi con maggiore frequenza di eventi climatici estremi come nubi fragi o lunghi periodi di siccità è alimentato in modo significativo dall'industria zootecnica. Dal recente rapporto del WWF sull'allevamento intensivo emerge che il 70% degli uccelli del pianeta è composto da pollame in allevamenti, mentre le specie selvatiche sono il 30%. Tra i mammiferi il 60% sono bovini e suini da allevamento, il 36% sono umani, mentre i mammiferi selvatici sono il restante 4%. Gli allevamenti intensivi producono oltre il 14% dei gas serra e per nutrire questa massa di animali usiamo il 40% dei terreni coltivabili. Infine, il 75% delle malattie emergenti è di origine zoonotica, cioè malattie infettive che possono essere trasmesse dagli animali all'uomo. La carne prodotta oggi è quasi 5 volte maggiore a quella prodotta nei primi anni 60 e questo ha un costo ambientale, inquinamento dell'aria e dell'acqua, distruzione di habitat tra cui foreste e savane per far posto a pascoli e monoculture per la produzione di mangimi, la resistenza agli antibiotici, tutti fenomeni che, sottolinea il rapporto, dimostrano che l'industria dell'allevamento non è più sostenibile. Per invertire la tendenza per il WWF bisogna ridurre il consumo di carne e chiedere maggiore trasparenza di etichette e cambiare le regole degli allevamenti per renderli meno impattanti sull'ambiente. Grazie